Buongiorno dalla redazione di Lecce News 24.it, ben ritrovati con la prima edizione delle breaking news del 2017. Apriamo con la cronaca, arriva il primo maxisequestro di droga del nuovo anno da parte della Guardia di Finanza, i militari delle fiamme gialle hanno rinvenuto 760 kg di marijuana sulla spiaggia di Torre Specchia sul litorale Adriatico, gli scafisti sono riusciti a scappare abbandonando il carico sulla riva e tagliando il gommone sul quale erano giunti, il mezzo della droga insieme a un coltello e una muta subacquea sono stati sequestrati. Paura nel primo giorno dell'anno in un tabacchino di Viale Giovanni Paolo II a Lecce, alcuni malviventi hanno appiccato un piccolo rogo nei pressi del locale, chiuso per il giorno di festa, con del liquido infiammabile un uomo avrebbe cercato di distruggere il distributore automatico di sigarette, scoperto da un passante però si è poi dato alla fuga sul posto vigi del fuoco e polizia che adesso è impegnata nelle indagini del caso. Voltiamo pagina, passiamo all'economia, arrivano i dati definitivi del 2016 sul mondo del lavoro, quello appena trascorso è stato l'anno del boom dei voucher, in provincia di Lecce sono stati utilizzati 1.500.000, 32esimo dato nazionale, un incremento dell'11% rispetto al dato dell'anno precedente con Bari, prima provincia della Puglia. Iniziativa di solidarietà fissata dall'Unicef per il prossimo 6 gennaio, nel giorno dell'Epifania infatti l'organizzazione umanitaria allestirà presso la villa comunale di Lecce una gara di mini GP dedicata a tutti i bambini del Salento, oltre 20 automobili a pedali costruiti artigianalmente saranno a disposizione dei più piccoli, l'iniziativa sarà accompagnata da una raccolta fondi da destinare ai bambini di Aleppo martoriati dalla guerra siriana. E concludiamo con lo sport, il calcio, il tecnico leccese Antonio Conte ha stregato Inghilterra, il suo Chelsea guida la classifica della Premier League, 13 vittorie consecutive, l'ultima delle quali ottenuta nell'ultimo giorno dell'anno contro lo Stock City, hanno consacrato Conte in terra inglese, tifosi e tabloid sono sui piedi, domani il banco di prova è importante, i Blues sfideranno il Tottenham. Si concludono così le nostre breaking news, tutte le altre notizie da Lecce e dal Salento le trovate sul nostro sito www.leccenews24.it anche in versione mobile, ancora auguri e arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.